Abbiamo fatto subitare 5 concessioni nostre, ha visto che avevamo 5 concessioni già nostre, a quest'altro. L'ora 5 era mandato. No, sì. Abbiamo solamente 5 concessioni. Se poi ti sembra un altro, ci cacca, ma non è tutto. Il premium, questo cominciare a bindere con i tablet, con il cender. Ma voglio le soldi che c'erano. Chi se già ci hai parlato, cani in giro, l'annaccio. Se poi tu mi dici... Come ti prendi? Dici, tu ti va a pagare, tu ti va a pagare. Lo scorso facciamo un po'... No, prima è fare io. No, peppo, diciamo, no. Rinde. E poi dopo io devo dire una mole, perché ci sono punte, invece ci sono... C'era già quei rappuntari di chito. Invece io ci dico a cupo suro, se non ce ne è 7, ho c'era delle 8 e 7, vedete la lunga, qua ce ne è 10, ho c'era delle 3, io ci dico a C'erugno, non è che io devo dire, a giurirsi con chat. In più tutti che stai capaendo. Ma non possiamo iniziare se noi non sappiamo quale sono le percentuali che dobbiamo offrire. Staccavo, mi bloccavo questa agenzia, questa che mi ha detto. Come i bloccavo? Come i soldi non lo ha detto? I romani ci fanno i cose, ci fanno bene, ci si. Dopodiché mi andavamo a bloccarli. Non so, ma i dolorici. Io non lo riesco, io non lo riesco. Io non lo riesco. Io non lo riesco. Ho capito male io. Dopo il giorno 14. Non sottoportare queste 5 cienzie, più un punto com che ho appenazzato. Mamma mia, 100 euro mi sembra bene, ero dove non toccando. Sì. Ma vedete? Si. Se stanno toccando, c'è sonde. Bene.